Porco di c***o, non incomincia. Ma te, noi iniziamo malissimo. Buona Pasqua. Buongiorno. Che ne pensi, sì? Seria, guarda. Ecco, è quello di te. Picone di Ascolipiceno. Assaggiamo. Pizzia patti, eh? Pammatti. A beve. A beve l'uvino. Stiamo andando via. Dove è il suo acqua? Siamo a Pibiliano, un paese meraviglioso, molto romano. Guarda, scatta. Un gioslo, tutto questo sarà tu. E se non è. Lo provo. Sì, non è. E se non è più amici di sempre? Sempre. Sono gli amici di scorta. Grazie, Emilia. È una volta di scorta. Stona, però non si può sprecare. C'è Radio Maria che non piglia La storia In Italia Radio Maria non piglia Fantastica Grazie a Elisa Che mi ha svegliato questo vomito Grazie a tutti Grazie a tutti